L'incontro di Ada Negri, voce di Marisa Vacca. Chi esce dal luogo dove ha per lunghe ore lavorato con intensità senza requie, ha molte volte lo stesso aspetto disfatto di chi esca da un'orgia. La figuretta magrolina che nella luce rossa di quel tramonto milanese sbucava dall'ufficio postale di via Boccaccio, appoggiandosi al battente come se l'urto dell'aria aperta la colpisse in pieno petto, portava nel volto trassognato il pallore, lo smarrimento, l'abbandono quasi mortale, che son pure le stimmate della volutà. Ella infilava con gesto meccanico nei guanti di filo rattoppati le mani sporche d'inchiostro da timbri. Quante ricevute di lettera raccomandata aveva firmate? Quanti moduli staccati dal mastro, quanti spiccioli contati e dati per resto, nella pesante giornata che pareva non finisse più? Quante volte, presa tra il fiato graveolente ed un fattorino affacciato allo sportello, e il tic-tic della macchina morse contro la parete, proprio dietro la sua schiena, ella si era sentita vuotare cuore e cervello in una specie di annientamento? In quell'ufficio postale ripeteva da dieci anni ogni giorno lo stesso lavoro, con gli stessi gesti, gli stessi sorrisi, le stesse parole alle persone che si presentavano in fila interminabile al piccolo quadrato aperto nella vetrata opaca. Non contava più il tempo, non si accorgeva più delle stagioni. In quella prigione l'inverno somigliava all'estate, la primavera all'autunno. La sera, in gran fretta per non essere strapazzata, tornava a rinchiudersi nella bassa e stretta portineria d'un casamento in corso ticinese, a fianco delle colonne di San Lorenzo. Vi era nata, vi era cresciuta, vi avrebbe, forse, dovuto morire. Al deschetto da calzolaio, posto nella miglior luce sotto l'unica finestra, il vecchio padre di Maria Chiara non lavorava quasi più. Tanto lui che la moglie vivachiavano sugli scarsi guadagni della portineria e sullo stipendio della figlia. Lui, terreo, risecchito, storto d'una spalla, con la bocca nera e fetente di tabacco masticato, con le mani adunche e squamose. Lei, grassa, torpida, volgare, troneggiante fra le serve pettegole del casamento del quartiere. A trent'anni suonati, Maria Chiara non ricordava d'aver veduto suo padre e sua madre più giovani e diversi. Il babbo adoperava adesso assai meno il trincetto, il cuoio e lo spago, null'altro. La parca mesata dell'impiegatuccia postale, non appena ricevuta, passava nelle mani del vecchio o in quelle attaccaticce come il vischio della vecchia. Per comprarsi una cintura, una veletta, un fiore per il cappello, doveva chiedere denaro alla madre, e la madre nicchiava e lesinava persino i due soldi del tram, borbottando che i tempi erano duri. Maria Chiara indossava da più di due stati un meschino abito grigio a giacchetta, di così goffo taglio che non riusciva a nascondere il difetto della spalla destra, un poco più sporgente dell'altra, ereditato dal padre. Difetto che un abile sarta avrebbe certamente saputo attenuare. Le scarpe di falso capretto andavano scalcagnandosi. Il feltro nero a piccola tesa sui capelli folti, ma già scoloriti alle tempie, mostrava la corda. Ella aveva l'aspetto disarmonico di chi vorrebbe essere elegante e non può, l'aria penosa di chi vorrebbe sorridere e non riesce che a fare una smorfia, per nascondere la stonatura dei denti guasti. Passata la prima impressione e distordimento, si mise a camminare lesta, ma con passo automatico. Il suo viso era ad una sonnambula. Giunta in piazza nord, in luogo di voltare a destra, come sempre faceva, proseguì diritta davanti a sé. Dove andava? non lo sapeva, davanti a sé. Questo solo sapeva con assoluta certezza, che a casa sua non sarebbe ritornata né quella sera né mai. Una ributtante scenata del padre contro di lei, avvenuta la sera prima, a proposito di un nulla, non poteva essere la sola diretta provocazione alla fuga. Troppe ne erano accadute già. Ma la forza di pazienza, di resistenza della fanciulla, da tempo insidiata, in un organismo nervoso giunto al parossismo della stanchezza, era caduta. Ella se n'era sentita spoglia, s'era trovata priva ad ogni difesa morale, nella vita, d'una vita simile ad un budello cieco. E se era detta? Basta. Basta. Basta della sudicia casa, dove sempre, rientrando, ella aveva ritrovato lo stesso puzzo di soffritto, di cuojame e di detriti di gatto. Gli stessi visi conosciuti in ogni grinza, le stesse voci note in ogni inflessione, lo stesso basto, la stessa nausea. erano pure quei volti e quelle voci di suo padre e di sua madre. L'amavano pure costoro, a proprio modo, con gretto, incosciente egoismo, ma l'amavano, pensando, noi t'abbiamo fatta, e tu aiutaci adesso, e vivi per noi. Perché dunque ella voleva sfuggire alla legge, che era legge comune di vita? Accadeva dell'anima sua come della carne viva ad una spalla, costretta per supplizio a sfregarne incessantemente un'altra. Si piagava, mandava sangue e marciva, minacciando la cancrena. Ma non aveva mai trovato un uomo che volesse sposarla? Cos'è al mondo una donna che non sappia trovarsi un uomo? Oimè, quella figuretta misarella, né operaia né signorina, non tentava alcuno. Orlatrice di scarpe, cravattaia, guantaia o tessitrice, mille volte meglio. Un facchino dal camiciotto blu, o un macchinista d'allegra faccia color fuligine, se la sarebbe forse sposata, e l'avrebbe resa madre di molti figliuoli, senza pensare al poi. Ella, invece, possedeva la licenza tecnica. Cianfrugliava in francese, occupava un impiego. Che ironia, che tristezza. L'impiego non metteva un soldo nella sua tasca, non la liberava dalla schiavitù familiare. Non avrebbe più potuto essere tenuto da lei, se avesse preso marito. Non faceva che spostarla inaridendola. E, ammalata ad aridità, lo era al punto che i genitori e i colleghi d'ufficio le erano divenuti estranei. Il loro contatto fastidioso, come lo stridere della penna sui foglietti delle ricevute, come il tic-tic della macchina morse, penetrante nella sua schiena col lavoriglio d'un trivello. Dove avrebbe passato la notte? Non lo sapeva. Chiuse e nella lugora borsetta, appesa al polso, teneva le centocinquanta lire dell'ultima mesata, ricevute quel giorno. E andava. Il tramonto, avvolgendola di vampate snervanti, smoriva nel primo sbolciare delle lampade elettriche. I comignoli e i cornicioni dai tetti serbavano un purpurio riflesso di sole, mentre le vetrine e i marciapiedi accendevano i loro strani fiori di cristallo. Tram carichi di gente passavano scampanellando, suscitando dalle rotaie scintille azzurre subito spente. E carrozze, e automobili, e biciclette, e carri. A Maria Chiara pareva di veder tutto per la prima volta. Quanta vita! Ma non era per lei. Perché nessuno e nulla era per lei? Tutti quegli occhi, di cose ed uomini, non la guardavano, non la conoscevano. Non avvertiva più affatto il peso del corpo. Stanca era, eppur fluida, immateriale, sollevata da terra, senza fame, né sete, né sofferenza, né punto d'appoggio. La sua piccola persona, dalle spalle leggermente asimmetriche, e il suo visino scarno dagli occhi allucinati, le ballenavano a tratti d'innanzi dagli specchi delle vetrine. E allora si sentiva pervasa, da un fuggevole brivido, da un improvviso terrore. Era dunque Maria Chiara? O non piuttosto un'altra? Un essere staccato da tutto, lontano da tutto, indifferente a tutto? Lei, forse, sarebbe tornata indietro? Avrebbe ripreso a testa bassa la strada mille volte percorsa e così nota che le erano familiari le venature d'ogni pietra? L'altra no. Fuggiva, fuggiva dal controllo dispotico delle consuetudini, dei doveri. Avrebbe potuto fuggire da se stessa? S'era lasciata alle spalle la piazza del Duomo. Rasentando, senza guardarlo, il possente fianco del tempio, aveva infilato il corso, tra una fiumana di gente e un barbaglio di lumi elettrici. Lo smarrimento della stanchezza ingrandiva i suoi occhi fissi. Non le pareva più di camminare. Senza vedersene aveva rallentato il passo. Ma i suoi piedi le appartenevano ancora? Era la folla, adesso, che la sospingeva, portandola come le onde dell'oceano un avanzo di naufragio. E mai più, mai più sarebbe apparsa la riva. Non riva, non approdo, né salvezza, né passato, né avvenire. L'attimo rapinava. Sola, sperduta, anonima. Gli iridescenti riflessi delle vetrine, fulgide di gioielli, damaschi, velluti, cuoi dorati, la salivano con la sensuale sonorità delle loro musiche gialle, argente, violette e purpure. E belle donne lentamente passavano, per le quali quelle belle cose erano fatte. E tutte si appoggiavano all'uomo che le amava e le proteggeva. Per un giorno, per un mese, o per la vita? Che importa? E nell'ora lusinghevole, ogni loro movimento, sotto i grandi cappelli a piume e nella carezza delle morbide vesti, era grazia, gioia, seduzione. Due pensieri incoerenti, usciti dai meandri dell'istinto femminile, zizzagavano nell'ondeggiante cervello di Maria Chiara. Essere nella carne della flessuosa creatura che la rasentava a sinistra, col visetto serrato in un capriccioso tocco bianco, col corpo scolpito in una guaina bianca. Vivere la dolce vita della mammina dall'aria di bimba, che l'incrociava a destra, tenendo per mano un amore di fanciullo tutto riccioli, trine e sorrisi. Del resto, molte volte l'idea liberatrice era venuta a consolarla, nelle ore di buio fitto. Del resto bastava un tuffo nell'ombra, un volontario di sparire, ed ella avrebbe dopo potuto forse rinascere in bellezza, forza, felicità. La morte? La morte non esiste. Non è che una parola. Nulla va distrutto. Si scompare, ci si trasforma, si rivive, diversi. In qual libro aveva letto questo? Era stanca di soffrire della sua spalla sporgente, del suo viso di topino spaurito, dei suoi genitori sudici e davidi, del suo ufficio saturo d'odor d'inchiostro e di ceralacca, del vuoto in cui l'anima le boccheggiava. avesse almeno un ricordo d'amore, lontano, lieve, illusorio, per custodire il quale le sembrasse necessario sentir battere il proprio cuore. Ma chi si era mai accorto che ella fosse una donna? Vagò ancora qua e là, per un tempo indefinito. Un tram, un'automobile avrebbero potuto passarle rasente senza che si scansasse. Al limite dei bastioni di Porta Venezia, ombra nell'ombra, credette svegliarsi da un sogno e si domandò che mai facesse lì, dinanzi agli enormi profili degli ipocastali. Si domandò, dunque? E si vide com'era nella vita e fuor della vita, e capì che bisognava o rientrare nell'ordine o morire. Meglio morire. Tornò sui propri passi, rifece il cammino, più leggera e più scura ad un pipistrello, ma solo fino all'angolo di via senato. Là, mosse verso il naviglio. S'appoggiò alla spalliera. La notte era calata completamente. Non passava nessuno, o le parve. Guardò l'acqua a teciturna. Si assorbì nella vertigine. Già l'atto dell'abbandonarsi alla morte era compiuto in lei, prima che le membra obbedissero all'estrema volontà, quando una voce d'uomo, vicinissima, pacata, le disse. Anche lei, signorina, vuol morire? Si volse di scatto. Vide e non vide un omuncolo alto poco più di lei, meschino sotto un cappellaccio nero. Lo sentì, più che non lo vedesse, e rispose. Sì. Non ne vale la pena, signorina. Proseguì la voce pacata. Da circa un mese io torno qui tutte le sere, con l'intenzione di finirla con la vita. Guardo l'acqua. Penso che è fredda. E mi dico. Dopo non c'è più niente. Perché non c'è più niente. Ne stia pur sicura. E mi dico. Ancora un giorno. Chissà che il nuovo mattino non mi porti quel tal dono essenziale che mi faccia amare la vita. Così tiro avanti. Ho udito non so più da chi, che l'abisso attira. Per me non è precisamente così. Mi attira e mi respinge. Si intende che per un ometto come me l'abisso è rappresentato da un braccio del naviglio. Siete sola? Non avete nessuno? Voi? Le dava del voi adesso. Siete sola? Come me? Ella ebbe il fugacissimo pensiero dei suoi vecchi che la tendevano, ma le parvero irraggiungibili. E rispose di nuovo. Sì. Essere soli è impossibile. È mostruoso. Soffrire sta bene, ma in due. Io ho presi moglie qualche anno fa. Era gaia, graziosa, troppo giovine, una passeretta. È forse il volto caratteristico, divorato dagli occhi intelligenti, un po' folli. E fissò la donna. Voi non siete bella come Mariannina. Non siete giovine come lei. Tanto meglio. Mi assomigliate, voi. Credete al destino? Era scritto che noi dovessimo incontrarci sulle soglie della morte per continuare insieme la vita. Venite con me. Io posseggo una modesta casetta. Non bevo, non fumo, non sono violento. Mi piace cantare la sera accompagnandomi sulla chitarra. Sarete sempre a tempo a gettarvi nel naviglio, se non riuscirete a volermi bene. È l'unica cosa che aiuti a vivere, l'essere sicuri che si può sempre, quando si voglia, morire. Ma chissà, riuscirete forse ad amarmi. Avete gli occhi soavi della capretta bianca che si trova ai giardini pubblici. Non l'avete mai vista? Vi andremo insieme, domani che è domenica. Venite, venite con me. Le prese il braccio li infilò sotto il suo, familiarmente. Al calore di quel contatto maschile, Maria Chiara ebbe un sussulto, ma dolce. Era venuta sin lì, col proposito di finirla con la vita. Ed ecco bastava la presenza, la parola ad un uomo del primo che si fermasse sul suo cammino per trattenerla. Il primo è l'unico che le avesse parlato d'amore. Da quell'ignoto, l'ignoto dell'amore stava per esserle rivelato. Per conoscerlo, ella muoveva incontro all'inverosimile. Agiva come una donna da strada. uccideva Maria Chiara per dar vita ad un'altra donna. Suicidio per suicidio, dunque, chiuse gli occhi e si lasciò condurre. Fine del racconto